Le infrastrutture sono indubbiamente uno dei settori che potrebbe beneficiare maggiormente del denaro proveniente dal recovery plan, dal denaro proveniente dal piano di rilancio nazionale varato dal presidente americano Biden e non ultimo anche da una ripresa dell'economia globale dopo questo disastro che è la pandemia. Buongiorno a tutti, io sono Gabriele Bellelli, sono un investitore e un educatore finanziario indipendente e gestisco il sito bellelli.biz. In questo video ti indicherò la soluzione migliore, quella più efficiente per andare a investire nel settore delle infrastrutture. Per investire in questo settore un risparmiatore ha davanti a sé due strade, due ipotesi. La prima strada potrebbe essere quella di andare alla ricerca delle singole azioni di società che sono attive in questo settore come ad esempio Buzzi Unice, Cementier oppure WeBuild per quanto riguarda il mercato azionario italiano. La seconda soluzione invece consiste nell'utilizzare un ETF specifico che investe in azioni attive nel settore delle infrastrutture. Io personalmente mi sento di consigliare questa seconda soluzione perché fornisce numerosi vantaggi a un risparmiatore. Te ne elenco velocemente 5 al volo. Primo vantaggio, gli ETF sono uno strumento che non può fallire. Secondo, si evita di dover fare stop picking, cioè di andare a ricercare le singole azioni che è un'operazione complessa che richiede notevoli competenze di analisi dei bilanci oltre che un notevole onere in termini di tempo. Terzo vantaggio, gli ETF offrono un'ampia diversificazione a livello di azioni con la conseguenza positiva di eliminare il rischio specifico, di eliminare il rischio default della società. Non dimentichiamo che le società attive nel settore delle infrastrutture sono generalmente discretamente indebitate. Quarto vantaggio, gli ETF offrono una ampia diversificazione anche in termini geografici, anche a livello geografico, quindi permettendo di investire non solo in azioni italiane ma anche in società americane, europee oppure asiatiche. Quinto e ultimo vantaggio che ti cito, rispetto all'acquisto delle singole azioni, gli ETF ti permettono di limitare la volatilità e quindi il rischio dell'intero portafoglio però al tempo stesso senza rinunciare alle performance positive del sottostante. Attualmente su Borsa Italiana sono quotati 7 ETF che sono collegabili al settore delle infrastrutture. Io direi di andarli a vedere lavorando direttamente sul foglio Excel. Eccolo qui in sfondo. Come vedi gli ETF sono 7 e per ciascuno di questi ETF sono andato a censire quelle che sono le caratteristiche. In questo modo li possiamo analizzare, li possiamo confrontare per andare a individuare quella che è la soluzione di investimento più efficiente per il portafoglio. Allora le prime due colonne, vedete, le prime tre colonne in realtà sono dedicate alla descrizione del nome dell'ETF, dell'ISIN e del TIGER in modo tale che possiamo identificare in modo univoco il prodotto finanziario. La quarta colonna, vedete, è destinata alla strategia adottata dall'ETF. Sono tutti ETF, vedete, long, cioè rialzisti. Questo vuol dire che permettono di assumere a un investitore una posizione rialzista sul sottostante, quindi sul settore delle infrastrutture. Detto in altre parole, questi ETF aumentano di prezzo se aumenta il prezzo delle azioni che sono detenute all'interno del paniere dell'ETF. La quinta colonna, vedete, è dedicata invece alla descrizione del paniere che viene replicato da questi ETF. E qui possiamo notare le prime caratteristiche da sottolineare. Vedete, i primi tre ETF replicano tutti un paniere composto da azioni di società di tutto il mondo che sono attive nel settore delle infrastrutture. È curioso, vedete, il caso del terzo ETF che si caratterizza perché è ISG, quindi fondamentalmente contiene un ulteriore filtro che è appunto questo criterio ISG, quindi va a inserire all'interno del paniere solo quelle società che sono sensibili e quindi è il tema dell'investimento sostenibile, responsabile quindi della sostenibilità ambientale. Invece, vedete, il quarto, il quinto e il sesto ETF sono più specifici perché vanno a investire nelle infrastrutture energetiche e specificatamente del mercato azionario americano, quindi mancano di diversificazione geografica. Il settimo ETF invece è ancora più specifico perché investe in un paniere composto da società che sono attive, vedete, nel settore dello sviluppo delle smart city. Tradotto il concetto di smart city sarebbe città intelligenti che vuol dire in questo caso che le infrastrutture hanno l'obiettivo di rendere una città più efficiente e vivibile con ovviamente l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini. Dopo questa prima descrizione di quella che riguarda la composizione del paniere è giunto il momento di effettuare una prima scrematura. Personalmente andrei a eliminare dalla nostra selezione gli ultimi quattro ETF perché sono troppo specifici. Oltretutto, se noi andiamo a vedere le altre caratteristiche che ancora non vi ho fatto vedere, in particolare quelle legate, vedete, alla liquidità e allo spread, troviamo che fondamentalmente questi quattro ETF, oltre ad essere molto specifici, non sono particolarmente liquidi e ben scambiati. Quindi una prima scrematura suggerisce di eliminare questi ultimi quattro ETF. A questo punto quindi restano fondamentalmente i primi tre ETF. A questo punto possiamo osservarli più nel dettaglio, quindi andiamo a vedere le altre caratteristiche. Allora, partiamo da questa prima caratteristica. Vedete, nessuno di questi ETF è a leva, quindi sono tutti senza leva, primo aspetto. Secondo aspetto, sono tutti, vedete, a cambio aperto. Questo significa che sono soggetti alla variabile cambio valutario. Detto in altre parole, il prezzo di questi ETF è determinato dall'agire contemporaneamente di due variabili. La prima è l'andamento delle azioni che compongono il paniere, la seconda è il cambio valutario, in questo caso euro-dollaro. Il costo di gestione, vedete, è molto simile, stiamo parlando di uno 0,60%, 0,65% all'anno, quindi sono da questo punto di vista similiabili. Quindi sono tutti long, tutti a cambio aperto, tutti senza leva e con lo stesso costo di gestione annua. Una prima differenza dove la possiamo rilevare? Beh, la possiamo rilevare sicuramente a livello di replica. Vedete, il secondo ETF della classifica è replica sintetica, mentre il primo e il terzo sono replica fisica. Detto in altre parole, il secondo, essendo replica sintetica, tende a essere, almeno sulla carta, più rischioso rispetto al primo e al terzo. Una seconda differenza che può essere interessante da sottolineare riguarda fondamentalmente la gestione dei proventi. Vedete, il primo è distribuzione, mentre gli altri due sono ad accumulazione dei profitti. Interessante è anche, in tema di analisi delle caratteristiche del prodotto, andare a analizzare che cosa è la liquidità e, diciamo così, quindi la facilità, la quantità di scambi che avviene sugli ETF e anche lo spread del book tra denaro e lettera. E qui emergono altre differenze che sono importanti da sottolineare in tema di selezione. Se ne osserviamo, vedete, il primo ETF è indubbiamente quello più liquido, quello più scambiato e con il minor costo a livello di sprecio, e con lo spread più contenuto del book. Al contrario, invece, vedete, il secondo e soprattutto il terzo sono decisamente meno liquidi, meno scambiati e soprattutto hanno uno spread decisamente più ampio, soprattutto l'ultimo, il terzo ISG fondamentalmente. Questo significa che, proseguendo nella nostra opera di scrematura, possiamo tranquillamente andare a eliminare anche il secondo e il terzo ETF. Questo significa che il vincitore del nostro concorso, chiamiamolo così, di bellezza finanziaria, che in realtà poi sarebbe un discorso di efficienza, è il primo ETF, quello di iShares. Adesso possiamo andare a vedere un attimo quali sono le caratteristiche di questo prodotto, quindi per essere ancora più specifici e in modo tale che si possa essere ancora più consapevoli come investitori di quelle che sono le peculiarità di questo prodotto. Allora, in questa slide vediamo la composizione del paniere di questo ETF. Qui vediamo, vedete in slide, la composizione dei primi dieci titoli, quindi dieci titoli che compongono il paniere, i primi dieci per capitalizzazione, mentre in questa seconda slide abbiamo una maggiore comprensione di quella che è una diversificazione. Vedete, una diversificazione molto più ampia rispetto a quella che abbiamo visto nella slide precedente. Stiamo parlando di un ETF che investe in più di 250 azioni, quindi ha una diversificazione come singoli emittente, oltre 250, dicevamo, decisamente importante. Importante è anche la diversificazione, vedete, a livello geografico. Vediamo che la parte del leone la fanno gli Stati Uniti e il Canada, ma questo è abbastanza, diciamo così, una consuetudine per quanto riguarda gli ETF azionari globali, ma possiamo osservare come non manca anche l'area asiatica. Vedete, abbiamo Giappone, abbiamo Cina, c'è Hong Kong e c'è anche l'India. Interessante è anche la diversificazione per quanto riguarda le categorie. Vedete, abbiamo al primo posto le infrastrutture, diciamo così, dedicate alla pubblica utilità. Poi abbiamo le infrastrutture industriali e anche quelle energetiche. Pensiamo a tutto quello che è il discorso green, dell'energia pulite. Infine, vediamo le altre caratteristiche salienti del prodotto. Qui troviamo il codice ISIN e il ticker, per identificare in modo univoco il prodotto finanziario, mentre di qua troviamo le altre caratteristiche. Vedete, abbiamo un costo di gestione annua, il TER, dello 0,65%. Abbiamo detto che è un prodotto a distribuzione dei proventi, quindi paga periodicamente una cedola. La frequenza con cui questa cedola viene pagata è trimestrale. Il dividend deal, cioè il rapporto tra la quotazione attuale di mercato e il dividendo erogato negli ultimi 12 mesi, è un 2,19%. La replica è fisica del sottostante, il cambio valutario abbiamo detto che è un rischio, questo ETF quindi non contiene uno strumento di protezione del cambio, per cui è un prodotto a cambio aperto. Ricordo che sia la cedola che le plusvalenze di prezzo costituiscono reddito di capitale, quindi non possono essere utilizzate per recuperare eventuali minusvalenze pregresse. Qui abbiamo il discorso della liquidità, vedete tende a essere un prodotto ok, anche se la liquidità non è stabile nel corso delle sedute e dei mesi, in ogni caso è un prodotto che possiamo promuovere dal punto di vista della liquidità. Qui invece troviamo l'andamento storico di questo ETF dal 2007 ad oggi. In ultimo, ma non certo meno importante, è utile analizzare come utilizzare questo ETF all'interno di un portafoglio. Allora, personalmente eviterei l'approccio passivo, quello del cassettista che compra e mantiene in portafoglio sine die. Avrei altre soluzioni in mente. Allora, per l'investitore pigro o per l'investitore, diciamo così, di lungo periodo, potrebbe essere utile valutare un piano d'accumulo. Al contrario, invece, per l'investitore dinamico potrebbe essere utile valutare una strategia attiva, che sia trend follower oppure rotazionale. Il concetto comunque è quello di inserire e mantenere in portafoglio il titolo solo durante una fase rialzista dei prezzi. Io personalmente non ho il minimo dubbio e questo è un ETF che all'interno di un portafoglio gestirei sicuramente con una strategia attiva e dinamica. Ok, prima di salutarti, tre comunicazioni al volo. Se desideri approfondire il mondo degli ETF, conoscere le caratteristiche, imparare a selezionarli e soprattutto a costruire e a gestire un portafoglio efficiente di ETF, ti consiglio il mio libro, Investire con gli ETF e con gli ETC. Lo trovi in tutte le librerie, ma lo trovi anche su Amazon. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace a questo video e soprattutto iscriviti al mio canale per essere sempre aggiornato sui miei video. Se hai dei dubbi, delle domande o dei chiarimenti, mi puoi contattare, puoi interagire direttamente con me all'interno di questo mio gruppo chiuso e gratuito su Facebook. Si chiama Gabriele Bellelli Trading Investing. Lo trovi su Facebook, chiedi l'iscrizione e ti accettiamo volentieri. Io partecipo attivamente tutti i giorni e sarà l'occasione per chiarire ogni dubbio e domanda che ci sia su questo ETF o su tanti altri argomenti. Grazie per l'attenzione e buon investing!